Eccoci, buongiorno. La situazione è un po' particolare. Teniamo conto che sull'Atlantico c'è una perturbazione ancora abbastanza lontana, poi c'è lo tornato abbastanza sereno sulla penisola iberica, sulla Francia. Vedete, le nuvole si vanno a concentrare sul mare, sul Mediterraneo. Come dicevamo questa mattina, la temperatura dell'acqua del mare è ancora relativamente alta, poco sotto i 24 gradi, vi ricordo che ha toccato quasi i 30 quest'estate. Parliamo dell'estate, ma l'acqua ha una grande capacità termica, un'alta capacità termica. Significa che mantiene il calore. Se voi provate a spingere il vostro ferro da stiro, dopo 5 minuti se lo toccate, probabilmente non vi bruciate. Se spingete una pentola di acqua che bolle, dopo 5 minuti ci mettete la mano, cioè non ce la mettete perché almeno sta ancora a 90 gradi. Quindi l'acqua si raffredda molto lentamente. Quindi la temperatura del mare, specie durante la notte, abbiamo visto questa mattina, le temperature minime sono 10, 12 gradi, 13 gradi. L'acqua è ancora largamente sopra i venti. Questa fonte di calore fa sollevare l'aria umida perché è sopra il mare. Ed ecco l'effetto, andiamo a vedere la carta, dei temporali, perché in quelle zone chiare ci sono temporali. Guardate quanti ce ne sono le zone Baleari, ma sul Tirreno, sulle Bocche di Bonifacio, poi vicino la Sicilia, vicino le isole. E insomma ce ne sono molti. Poi si attenuano durante il giorno perché la terra diventa più calda e quindi si pareggia. Però questa instabilità dovuta soprattutto alla temperatura del Mediterraneo sicuramente c'è. Previsione per la giornata di oggi. fenomeni soprattutto sul mare, quindi precipitazioni anche intense. Direi che forse ce ne sono, tenendo conto di quelle di questa mattina, ce ne sono più di quelle che la carta indica. Però difficilmente toccano terra, lo fanno in maniera marginale. Domani questa instabilità si intensifica ancora, cioè continua a lavorare. Guardate che zona di precipitazioni fortissime sul Tirreno centro-settenzionale. Si arriva sull'arcipelago toscano, si sfiorano Corsica e Sardegna. I fenomeni più intensi sono sul mare, dove lì almeno non fanno danno. Però certo le isole dell'arcipelago toscano potrebbero esserne sfiorate. Sulle altre zone, nulla al nord e deboli eventuali precipitazioni sulle zone del centro. Poi arriviamo alla giornata di sabato, in cui questi fenomeni ancora interessano le zone del Tirreno, la bassa pressione che si è formata proprio qui, interessano direttamente, a questo punto entrano sia sulla Sardegna che sulla Corsica, meno in Sicilia e ancora poche nuvole al nord, qualcuna al centro-sud peninsulare. Però vedete come è il mare che proprio richiama e forma e sviluppa questi fenomeni. Vediamo la situazione dei venti, è molto simile a quella dei giorni scorsi, è ancora il sud-est moderato che poi diventa da est sul Mediterraneo occidentale, però non è una situazione con venti significativi. Poi vediamo le massime previste per la giornata di oggi. Più al nord, addirittura 16-17 gradi, sul filo dei venti al centro, forse qualcosa di più al sud, ma non moltissimo. Quindi anche durante il giorno la temperatura della terra sale rispetto al mare, ma non la supera. tendenza nelle prossime 24 ore, zero, cioè non ci sono variazioni significative, le temperature massime rimangono più o meno le stesse. Vi vorrei far vedere questa foto che mi ha mandato Paola. Allora, è una foto di quest'inverno, quest'inverno nel senso di marzo, e sto a marzo con le foto, quindi tenete conto, hanno portato Tommy, che aveva 4 anni, adesso non so, forse ne avrà quasi 5, a Parigi, perché andavano a Disneyland, sogno di ogni bambino, e Tommy segue il meteo. Molto spesso mi dicono che i cani, i gatti, a volte sembra che ascolti, non so, forse il tono della voce, non so che cosa. E i bambini, anche molto piccoli, non so, sarà l'effetto nonno, non so qual sia la causa, però segue Tommy il meteo e quindi questo nostro piccolo, nostro, mio insomma, piccolo ascoltatore ha tutti i miei, così, un abbraccio da nonno e continua, continua così.